Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube Spossile TV. Oggi vi voglio parlare di una canna particolare, la Cobalt della Favorit. È una canna da aging che ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale ed è una canna fantastica. Perché sono così innamorato di questa canna? Perché di solito canne di questo tipo costano molto ma molto di più. E allora vediamo quali sono le qualità del carbonio che rendono questa canna così particolare. È un carbonio 27 ton, quindi 27 tonnellate, che permette una lavorazione molto sottile del fusto. Un fusto molto sottile, molto leggero, molto dinamico. È un carbonio che permette lanci molto lunghi e al contempo un recupero molto ammortizzato delle nostre prede. Ed inoltre, attenzione, sottolineo inoltre, una grandissima sensibilità. Ci permette di sentire qualsiasi tocca. Per cui è una canna che consiglio a chi vuole cominciare e soprattutto cominciare bene, ma anche una canna a chi sa già pescare e quindi vuole una canna di una certa qualità, non spendendo troppo.